Questo pomeriggio, nelle loro città di origine, i funerali dei tre operai agrigentini di Rete Ferroviaria Italiana, che giovedì scorso sono stati travolti e uccisi dal treno regionale Gela-Caltanissetta. Alle ore 15.30 nella chiesa della Madonna della Providenza di Agrigento, le segue di Vincenzo Riccobono. Alle 16.30 nella chiesa della Madonna del Carmelo di Porto e Bedocle, quelle di Antonio La Porta. Ultimo saluto a Luigi Gazziano, alle ore 17, nella chiesa Madre di Aragona. Intanto, su frontendagini volte a chiarire le dinamiche e responsabilità dell'incidente, questa mattina il procuratore capo di Gela, Lucia Lotti, ha incontrato gli organi inquirenti per fare il punto della situazione. Non si esclude che nelle prossime ore l'inchiesta aperta momentaneamente contro i gnoti possa coinvolgere diverse persone ritenute responsabili a varo titolo della tragedia.